Qual è il problema a questo punto? Il fatto che si paghene oltre i 2 milioni di euro di fitti che paghi il Comune tanto oppure che non ci siano dei contratti validi registrati e siano tutti retrotti? Credo che siano entrambi i problemi. Io da ingenuo consigliere penso che il Comune quando prenda in affitto un locale, uno stabile per parecchie centinaia di euro l'anno, firmi un contratto. No, invece pare che non si usi perché i contratti vengono firmati un anno e mezzo dopo che abbiamo già occupato dei terminati locali e quando vengono firmati, per esempio ne è stato firmato uno a febbraio 2014 che fa riferimento a un periodo di locazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Quindi si firma nel 2014 un contratto che è riferito al 2013 con la conseguenza che nel 2014, cioè oggi, ristiamo un'altra volta senza contratto. A sorpresa aver trovato soltanto due contratti peraltro retroattivi sui sei che ha in dotazione il Comune dell'Aquila. Sì, diciamo che è una sorpresa relativa perché visto come vanno le cose nel Comune dell'Aquila, ahimè non ci sorprende più nulla ma comunque ci continua ad indignare questa cosa e vorremmo, e stiamo qui apposta, che le cose cambino. Cambino che come senso comune quando uno entra in uno stabile stipula un contratto prima, no? Come fa lei quando affitta la sua casa a un'altra persona o prende in affitto una casa? Credo che il contratto lo fa prima, non è che lo fa tre anni dopo che se n'è andata, no? E la cosa volete interessare il vice sindaco Trifu oggi in fatto di trasparenza o in fatto di procedure contrattuali? Beh lui diciamo c'ha la delega sia la trasparenza e sia c'ha la delega anche alla centrale unica degli appalti e dei contratti, no? Quindi è proprio materia del dottor Trifu oggi che siamo certi che risolverà finalmente questa situazione. E' sfuggita di mano la situazione, cioè può essere che un gruppo consigliare di opposizione, quantomeno anche vivace come voi, debba arrivare a questo punto quando finora insomma ognuno ha fatto come gli pareva? Evidentemente sì, diciamo che la funzione principale di un gruppo di opposizione è proprio il controllo degli atti. Ma organi interni nell'amministrazione? Ce lo chiediamo, tant'è appunto che lo chiederemo anche con gli atti consigliari, sia con l'interrogazione che con la mozione perché vogliamo sapere uno come è mai possibile che si proceda in questo modo e due con delle azioni perché questa cosa non si verifichi più. Come me non è seguito nulla la mozione su Via Roma, quantomeno avevate dettato dei punti da portare avanti ma insomma è rimasta lì lettera morta riguardo anche a un'indagine di mercato tra i locatari. Questo è un altro aspetto inquietante se mi permette perché parecchie deliberazioni del Consiglio poi non vengono rispettate. Allora presentiamo degli emendamenti che vengono approvati, presentiamo delle mozioni che vengono approvate e poi non vengono attuate. Allora il Consiglio Comunale che vota a fare sulla faccenda degli affitti? A dicembre era stata votata una mozione di indirizzo che prevedeva innanzitutto un'indagine conoscitiva entro 60 giorni che sono scaduti per capire tra i proprietari degli edifici che il Comune ha preso in affitto se questi proprietari avessero rispettato le convenzioni con il Comune e questo non è stato fatto. Si era detto nella mozione che bisogna fare immediatamente, giudichi lei che significa immediatamente, la mozione è di dicembre un nuovo avviso pubblico per gli uffici dell'anagrafe e non è stato fatto. Allora se le cose non si vogliono fare alle mozioni gli si vota contro. Se le mozioni come in questo caso vengono approvate all'unanimità, quegli indirizzi vanno attuati dagli uffici. Per questo chiediamo che la Quinta Commissione di Garanzia sia convocata per vedere quanti atti del Consiglio votati ed approvati poi hanno avuto seguito e attuazione.